Siamo con Mario Capanna, allenatore della città di Cosenza, che ha vinto questo match con la Rai Nantes Francer per 6 a 5. Mario, prima dell'incontro avevi detto che le tue ragazze dovevano entrare in acqua con ferocia, grinta, ambizione e soprattutto stare attenti alle avversarie, perché comunque potevano essere pericolose. Alla fine hai avuto ragione, le tue ragazze erano veramente agguerrite? Sono soddisfatto della prestazione e credo che abbiamo meritato di vincere, per quello che abbiamo prodotto. Abbiamo prodotto di più in una partita difficilissima, perché la Florenzia gioca bene, perché tutte e due le squadre hanno giocato con le loro caratteristiche, quindi attente, preparate, senza rischiare il minimo e quindi con molta grinta. La classifica e l'identità di queste squadre, la struttura è simile e stiamo facendo un campionato simile. Quindi era una partita a punto a punto. Secondo me siamo stati un po' più bravi. Questo non toglie i meriti della Florenzia, la qualità della Florenzia, non toglie che alla fine della partita ci sia animo, non toglie che ci sia, che senta polemica per il fatto che non abbiamo giocato a dicembre, ma queste sono cose che vanno fuori da quello che è il mio lavoro. No, assolutamente no. Diciamo che voi siete un po' partite poi alla fine sulla distanza, cioè i primi due tempi erano piuttosto equilibrati e poi avete preso un po' il via con la Rarari che ha arrancato e, diciamo, proprio sul cofil di lana ha anche rischiato di pareggiare. Arrancato non penso che sia la parola che descrive la partita della Florenzia, perché la Florenzia ha giocato e al quarto tempo aveva energia, ha provato a essere ancora più aggressiva e andare via. L'ultimo episodio è vero che, in una partita così combattuta, gli episodi valgono, è vero che hanno avuto la palla per giocare, ma secondo me lì c'erano otto palli contro, ma è l'ultima azione concitata, di una partita concitata, bella, da me allenatore della Cosenza mi è piaciuta perché è stata viva, anche perché ci sono gli avversari viti. È stata una bella partita anche vista dagli spalti, eh, comunque. Ma mi piace che ci sia il pubblico, che ci sia il pubblico di casa, che ci sia tifo, cioè questo, poi lo facciamo per questo. Non credo che sia finito qua il campionato, né per il Cosenza né per la Florenzia. Su questo sono d'accordo, anzi, io farei anche un invito, se mi permetti, chiaramente qui a Firenze, ma visto che siamo in streaming un po' tutta Italia, venite a vedere le partite di palla a nuoto, perché è bello vedere la gente sugli spalti che urla e incita, anche protesta. Insomma, fa sentire il calore a chi è in acqua e gioca. Vi faccio complimenti anche al servizio che fate, perché per chi è lontano e non può venire a Firenze, ma fate un buon servizio che è di qualità. E poi credo che partite così avvicinino, quindi me lo auguro per noi, per voi. Ci rivedremo fra due o tre mesi. Grazie mille a Mario Capanna, grazie. Grazie mille a Mario Capanna.